Grazie a tutti. E abbiamo cominciato a percorrere insieme, scusate che stasera condizioni fisiche non sono proprio ottimali, comunque sicuramente andrà tutto bene. E abbiamo cominciato a percorrere questo itinerario avvincente che stasera ci porterà a qualche passaggio ulteriore nella conoscenza di chi era Adamo, di quello che aveva, di quello che ha perso e di quello che possiamo recuperare, di quello che Adamo aveva. Questo è un po' più nel senso di questo ciclo di catechesi. Avremo modo di sentire anche prossimamente, forse già nella prossima puntata, addirittura il diretto interessato in persona, perché c'è una parte degli iscritti dove Adamo in persona parla a Luisa. E le dice alcune cose assai significative. Questa sera l'argomento sarà un po' una dolente nota, insomma, perché è centrato fondamentalmente su quello che Adamo ha perduto con il peccato originale. La relazione che questo ha con l'opera che Gesù ha dovuto realizzare per poterci rimettere in condizione di riacquistare questo dono perduto. E anche alcune conseguenze. Vedremo che questa perdita ha causato in Adamo, come se ne è reso conto, diciamo, abbastanza precocemente. E anche, insomma, un nuovo capitoletto che tratterà della differenza che c'era tra il prima e il dopo. Sono tutte quante cose importanti per certi aspetti ricorrenti, ma sulle quali merita soffermare con molta attenzione il nostro sguardo. Io passo subito alla lettura, non sono molto lunghi, sono tre brani, due del volume 19 ed uno del volume 20. Ne leggiamo una volta e poi piano piano li commento anche uno alla volta. Volume 19, 29 luglio del 1926. Figlia mia, il primo uomo col peccare perdette una volontà divina e perciò ci volle la mia umanità unita al verbo eterno, che doveva sacrificare in tutto e per tutto la volontà umana della mia umanità per riacquistare questa volontà divina, per ridarla di nuovo alla creatura. Se l'uomo avesse perduto una cosa umana datagli da Dio, un angelo, un santo, gliel'avrebbero potuta restituire, ma siccome per detto una volontà divina ci volle un altro uomo e Dio che la potesse restituire. Ora, se fossi venuto sulla terra solo per redimerlo, sarebbe bastato una goccia del mio sangue, una mia piccola pena per metterlo in salvo. Ma siccome venni non solo per salvarlo, ma per restituirgli la mia volontà perduta, questa divina volontà volle scendere in tutte le mie pene, nelle lacrime, nei miei sospiri e gemiti, in tutto ciò che io facevo e soffrivo, per riacquistare di nuovo il dominio in tutti e su tutti gli atti umani e così poter formare di nuovo il suo regno in mezzo alle creature. Allora, nell'apparente semplicità, questo brano è ricchissimo e anche molto complesso, nel senso che contiene al suo interno tanta roba. Allora, io cerco di fare come sempre un pochino di ordine. La prima cosa, discorso abbastanza chiaro. Adamo aveva come dono, integrante i suoi doni soprannaturali, il dono della divina volontà. Col peccato originale questo dono lo ha perso, spiega Gesù. E perdere una cosa di questo genere significa non perdere una cosa umana, per quanto che era un bene grandioso, ma perdere una cosa completamente divina. E quindi la restituzione di un tale bene necessitava per forza un'iniziativa da parte di chi ha la titolarità su questo bene che quindi possa restituirlo. Cioè Dio fatto uomo. Attenzione ancora. Dall'incipit di questo brano si capisce chiaramente, bisogna fare qualche riferimento di questo genere, perché purtroppo nella aurea dottrina della divina volontà, ahimè, si sono già introdotti alcune voci, diciamo un po', chiamiamole un po' critiche, derivanti, purtroppo, da alcune letture o sbagliate o a volte parziali o a volte unilaterali che sembra esserlo state fornite. Voi sapete che c'è un'eresia grossa quanto una casa, condannato dal terzo concilio di Costantinopoli, che è il monotelismo. Monotelismo significa in greco monostelos, un solo fine, cioè una sola volontà. In base a questa eresia, che era una forma, diciamo così, più raffinata e particolare del monofisismo, di Eutiche, condannato rigorosamente dal concilio di Calcedonia nel 451. Il monotelismo dice che la volontà divina presente in Gesù assorbe talmente tanto la volontà umana da annullarla. Così come il monofisismo diceva che la natura divina del verbo era così preponderante e così presente da assorbire, Eutiche usava il paragone della goccia in un'oceano, la volontà, scusate, la natura umana di Gesù. Qui Gesù spiega non c'è nessun assorbimento. Qui Gesù ha vissuto la vita terrena, doveva sacrificare in tutto e per tutto la volontà umana della mia umanità per riacquistare questa volontà divina. Capite che cosa è successo? Cioè, Gesù, così come del resto la Madonna, dal primo istante del suo concepimento aveva una vera volontà umana come la nostra, d'accordo? Ma per restituirci la volontà divina doveva in tutto e per tutto, nel minimo dettaglio, nel minimo secondo, nel minimo istante, sacrificare questa volontà umana, cioè rinunciarvi, ma con un atto voluto e volontario a favore della volontà divina. È la stessa identica cosa, sotto questo punto di vista, che ha fatto la Madonna all'istante stesso del suo concepimento. Poi Gesù aggiunge un particolare che, questa è un'operazione, l'abbiamo già vista, che necessitava l'intervento di un Dio perché doveva restituire questa cosa rigorosamente divina. Ha perso una volontà divina, non semplicemente una cosa umana. Una cosa umana, dice Gesù, te la puoi ridare un santo, te la puoi ridare un angelo, te la puoi ridare chi vuole. Questa no. Poi, attenzione, voi sapete, no, in molti si sono interrogati cercando delle spiegazioni geologiche sul mistero della passione di Gesù, perché la passione di Gesù è stata qualche cosa di assolutamente allucinante. Cioè, un bagno di sangue, soltanto quello che si vede esteriormente, una serie di torture disumane e indicibili che veramente, insomma, lasciano a bocca aperta. E noi sappiamo, tra l'altro, che queste torture disumane e indicibili sono niente in confronto a quelle più grandi ancora, cioè interiori, che Gesù ha vissuto, e non solo in occasione della sua passione del fine del giovedì santo e tutto il venerdì santo, ma per tutta la vita. Ora, questo non caglia, questa, non lo so, questo universo, questo mare sconfinato di dolori, ci voleva proprio? Voi sapete che molti santi hanno cominciato a dire bastava una goccia del sangue di Cristo per redimere non solo questo mondo, ma migliaia di mondi qualora che ne fossero una goccia, qualora che fossero esistenti. E allora perché c'è stato questo bagno di sangue? Allora qui sono cominciate le spiegazioni, cioè, se bastava una goccia e Gesù si è svenato perché è morto dissanguato, come dimostra il colpo di lancia da cui esce sangue ed acqua, cioè sangue mista a siera, non c'era più niente dentro quel corpo umano, come mai? Perché doveva mostrare l'eccesso del suo amore. Sì, questa è una bellissima spiegazione, significativa, anche un po' poetica. Tutto qui? Qui Gesù dà una spiegazione teologica, non semplicemente poetica. Gesù spiega, se fossi venuto sulla terra solo per redimere l'uomo, sarebbe bastata una goccia del mio sangue, una mia piccola pena per metterlo in salvo. Perché che cos'è la redenzione in senso stretto? La redenzione in senso stretto è prendere su di sé il peccato, d'accordo? quindi ottenere il perdono dei peccati ai peccatori, la riconciliazione con Dio e la grazia santificante. Quindi la forza dal Signore una volta riconciliati con Dio e realmente redenti di custodire la grazia ricevuta dal Signore e accedere quindi all'eterna salvezza. Punto. Non è tanto difficile? Ecco, Per questo, per questo dice Gesù, bastava una goccia del mio sangue. Perché una goccia del mio sangue? Perché il soggetto offeso dal peccato è Dio e Gesù Cristo è Dio fatto uomo, d'accordo? Per cui una goccia del sangue di Gesù, d'accordo? Se noi vogliamo utilizzare come la tradizione della Chiesa ha fatto per esempio il criterio di Sant'Anselmo d'Aosta, la divina giustizia deve essere soddisfatta. come in maniera infinita, d'accordo? Ma qual è il valore di una goccia di sangue di Gesù versata dalla dignità di soggetto figlio di Dio dotato quindi della potenza infinita, della divina volontà? È infinita? Una goccia di sangue. Quindi basta una goccia di sangue per la redenzione di tutti. Attenzione però, qui non si tratta soltanto di redimere. qui bisogna attenzione formare di nuovo il regno della divina volontà in mezzo alle creature. Questa è un'altra cosa. Qui si tratta non solo di redimere, ecco perché è evidente, si tratta di restituire il dono della divina volontà. Come si fa a fare questo? Attenzione, qui Gesù lo spiega. Nel regno della divina volontà cerchiamo di focalizzare questi aspetti. Che cosa succede? Succede che tutti gli atti umani, ma proprio tutti, e attenzione, tutti gli atti umani di ogni uomo sono trasformati in atti divini. Perché questo non sia, come dire, una pia illusione, una pia poesia. Cosa succede? Ci deve essere qualcuno e qualcuno che ce l'abbia il dono della divina volontà e che abbia la capacità di sorvolare dappertutto, che rifaccia tutti gli atti umani in maniera divina, raggiungendo tutto ciò che si può raggiungere di ciò che è potenzialmente fattibile dalla razza umana. Rileggo il passaggio. Se fossi venuto sulla terra solo per redimerlo, sarebbe bastato una goccia del mio sangue, una mia piccola pena per l'enturanzato. Ma siccome vengi non solo per salvarlo, ma per restituirgli la mia volontà perduta, questa divina volontà volle scendere in tutte le mie pene, nelle lacrime, nei miei sospiri e gemiti, in tutto ciò che facevo e soffrivo. Perché? Per riacquistare di nuovo il dominio in tutti e su tutti gli atti umani e così poter formare di nuovo il suo regno in mezzo alle creature. Attenzione che la formazione del regno della divina volontà ha due passaggi. Uno deve farlo Dio, d'accordo, dall'alto e l'altro dobbiamo farlo noi, dal basso. il regno della divina volontà va formato. Non è qualche cosa di... Gesù l'ha fatto come? Facendo scendere, l'ha spiegato, la sua volontà divina in tutte le minime operazioni della sua volontà umana. Tutte le pene che l'ha dovuta conoscere in tutte le loro acerbità, tutte le lacrime, tutti i sospiri e tutto ciò che ha fatto. Ora, questo si vede benissimo poi vedendo in parallelo anche la vicenda della Madonna, basta per esempio risentire la meditazione che ho fatto questa mattina nel giorno di Maria Regina, questo regno già formato da parte di colui che lo dona, che è Dio, deve essere poi formato in noi. E come lo formiamo in noi? Facendo la stessa cosa, cioè non facendo scendere la volontà divina in tutti gli atti umani perché noi non ce l'abbiamo la volontà divina, ma imparando a portare tutti i nostri atti umani nella volontà divina. E questo si fa di sentire le catechesi fatte sull'Otto del Buon Consiglio come aprendo tutta quanto una serie di orizzonti che permettono la progressiva e sempre maggiore come dire attrazione dei nostri atti a causa del lavoro della nostra libera volontà nell'orbita del Divino. D'accordo? Quindi perché Gesù ha versato un fiume di sangue? Non perché questo era indispensabile per la nostra retenzione o necessario, perché bastava una goccia, ma perché questo era da farsi per ricostruire il regno perduto della divina volontà in noi e rimetterlo a nostra disposizione. Quindi ecco che significa quando dice che Gesù ha già fatto tutto. Gesù ha già fatto tutto, ma non vuol dire che noi non dobbiamo fare niente. Noi dobbiamo andare a prendere quel tutto e portarlo dentro di noi. secondo capitoletto di oggi. Allora. Volume sempre 19 8 agosto 1926. Ad ammo con sottrarsi alla volontà suprema perdette la forza unica del suo creatore e restato con la sua forza umana limitata sentiva lo stento del suo operare. Molto più che la forza che metteva nel compio una nazione lo debilitava e dovendo farne un'altra non si sentiva la stessa forza. Sicché toccò con mano la povertà delle sue azioni che non avendo la stessa forza non solo erano divise ma ognuno aveva il suo difetto. Successe come ad un ricco signore che possiede una proprietà estesissima fino a tanto che questa è di un solo padrone lui sfoggia fa grandi spese chissà quanti serviti mantiene sotto di lui e dalle grandi rendite che riceva sempre non acquisti ma supponi che questa proprietà fosse divisa con altri eredi ecco è già perduta la sua grande forza non può sfoggiare più come prima ne fanno acquisti si deve limitare nelle spese i suoi servi sono pochi sicché la sua grandezza e la sua signoria è svanita appena gli restano le tracce così successe ad Adamo col sottrarsi alla mia volontà perdette la forza unica del suo creatore e con ciò perdette la sua signoria il suo dominio non sentiva più la forza di sfoggiare nel bene e così succede per chi non è del tutto abbandonato in braccio alla mia volontà perché con essa la forza del bene si converte in natura e la povertà non esiste c'è qualcosa da spiegare ovviamente anche qui no? primo punto fondamentale Adamo dopo aver perso l'unione con la volontà suprema se ne accorge d'accordo da cosa? sente il peso della limitatezza delle sue forze umane cioè per fare un qualche cosa fa fatica si stanca e la cosa fatta di sua propria volontà con fatica e producendo stanchezza è difettosa non è perfetta qui penso che non ci serva la scienza infusa insomma chissà quale grande dimostrazione per cioè basta che ci guardiamo intorno noi stessi e fuori di noi stessi questa cosa la vediamo in continuazione allora capite da queste considerazioni come sempre girandole e portandole al contrario io posso capire che tra le spie che mi fanno presumere con una certa fondatezza che sto camminando nelle vie del divin volere quindi sto camminando chiaramente ancora non è finito il cammino che non credo che finisca in questo mondo quali sono quando sento una certa speditezza e meno fatica nel fare il bene che diventa piano piano con naturale cioè questa è esattamente la situazione contraria rispetto al peccato originale perché purtroppo il peccato originale tra le cose brutte che ha fatto è che oggi noi la nostra natura incline al male la famosa concupiscenza quindi che succede San Paolo lo esprime drammaticamente nell'ottavo capitolo della lettera dei romani dovrebbe essere l'ottavo se non ricordo male dice io vorrei fare il bene ma non ci riesco faccio non faccio il bene che voglio faccio il male che non voglio quindi scopro dentro di me la legge del peccato la chiama così poi purtroppo queste parole sono state avvisate nel corso della storia Lutero gli ha fatto dire insomma delle cose che vanno ben oltre quella che era l'intenzione dell'apostolo e la verità però il problema c'è d'accordo il problema c'è e le nostre operazioni ordinariamente sono imperfette sono difettose questo se noi andiamo a fare un'analisi fatta bene di noi stessi ce ne accorgeremo allora se io comincio a sentire meno il peso dell'operare il bene e al tempo stesso comincio a perfezionare il mio modo di essere e di agire quindi avverto dei passi in avanti degli scatti verso la perfezione perché guardate che la vita nella divina volontà comporta la perfezione nella carità d'accordo la perfezione cristiana è fondamentalmente perfezione nella carità e da questa perfezione nella carità a pioggia poi scendono tutte le azioni del buono quello che diceva Sant'Agostino che festeggeremo tra qualche giorno ama e fa quel che vuoi che purtroppo è una frase che per certi aspetti era meglio non dirla mi perdoni il grande santo perché deve essere ben interpretata ma è verissima se ben interpretata cioè la vita nella divina volontà in fondo non è altro che il compimento perfetto dei due precetti della carità amerai il Signore di Dio con tutto il cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze e amerai il prossimo non solo come te stesso ma come Gesù lo ha amato fino ad amare anche il nemico appunto chi ha queste due cose le virtù le ha tutte nessuna esclusa nessuna proseguo il commento quindi Adamo a dispetto di quanto abbiamo detto tocca con mano la povertà delle sue azioni si accorge di non è successo qua cioè io prima camminavo come come un razzo è come se uno passa se mi si perdona insomma una metafora a me passa da una Ferrari a una 500 ma non la 500 500 L che gira adesso la 500 dei 50 anni fa d'accordo la 500 che c'aveva la levetta vicino al freno a mano io me la ricordo insomma mamma mia se uno passa dalla Ferrari a una 500 si accorge che è passata da una Ferrari a una 500 insomma c'è un abisso capite quindi così è Gesù nel 1926 non so se era già stata fatta a 500 fa un paragone a Luisa un po' più abbordabile diciamo un paragone legato alle proprietà fondiari dice se uno ha una proprietà stesissima ed è il solo padrone può fare lo splendido quanto vuole insomma perché c'è delle rendite immense ma se succede un problema che qui ci stanno i frazionamenti e cominciano a starci tante altre cose quindi si perde ecco questa proprietà su questa cosa così estesa è chiaro che questo indica la divina volontà che non c'è più non si fanno nuovi acquisti non si possono fare gli splendidi non si è più così grandi non si è più così signori eccetera quindi la sottrazione alla divina volontà conclude Gesù comporta uno perdita della forza unica del suo creatore cioè chi opera nel divino volere è forte è potente è temuto dal diavolo questo tante volte Gesù lo dice negli scritti perché chi può opporsi chi può competere con la divina volontà nessuno chi è tanto forte quanto una volontà divina nessuno con sottrarsi dalla mia volontà perdete la forza unica del suo creatore e conciò perdete la sua signoria il suo dominio signoria e dominio su cosa su quello che troviamo scritto nel libro della Genesi facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza perché domini sui pesci del cielo sui pesci del mare sui rettini della terra sul creato eccetera eccetera e su se stesso noi questo adesso lo sappiamo benissimo noi dominiamo sul creato non credo cioè dominiamo sul creato nel senso che siamo capaci di costruire le città ecco siamo capaci di fare tante belle cose ecco poi salvo che tante belle cose che poi come i drammatici fatti di cronaca recenti insomma sì ecco ma noi siamo capaci di dominare le varie forme di ribellioni del creato tipo alluvioni tipo terremoti tipo tsunami tipo uragani o cose di questo genere non credo non credo non ce l'abbiamo più questa cosa e perché non ce l'abbiamo più e perché accadono queste cose facciamo una domanda per far capire differentemente immaginiamo che la razza umana si fosse mantenuta nella divina volontà io me lo sono chiesto terremoti ci sarebbero stati ma i remoti ci sarebbero stati i ragani sarebbero stati io non credo se magari ascolta qualche scienziato potrà anche pensare che io sono che sono un matto ma io non credo non lo credo la meditazione è fatta questa mattina il giorno di Maria Regina era su un brano di un 8 dicembre dove Gesù faceva capire che la regalità di la Madonna quindi la signoria quindi il dominio anche sul creato non è che è semplicemente festeggiata oggi oggi festeggiamo Maria Regina del Cielo e della Terra finalmente dopo l'assunzione la Madonna ci è arrivata è diventata regina ma quando mai? la Madonna comincia ad essere regina da subito perché? perché appena concepita ha legato la sua volontà ai piedi dell'Altissimo ha detto io non la voglio neanche conoscere io vivo solo di quello che vuoi tu e cosa diceva Gesù? diceva il brano è del per chi volesse andarlo a prenderlo dico subito è del 15 dicembre dell'8 dicembre del 1922 volume 15 Gesù spieghera dice guarda che cioè lei è la dominatrice attenzione perché è il creato che la riconosce come dominatrice perché se un istante solo in un solo atto la Madonna fosse uscita dal divino volere la creazione dice proprio così se sarebbero ribellati gli alberi avrebbero detto io non mi che regina ma quale regina si è discostata minimamente dalla divina volontà io caro signore che sono un albero un povero albero sono esattamente così come tu mi hai voluto e pensato non mi sono discostato neanche di tanto così per cui la creazione non riconosce nessuna regalità se non a chi è fuso con la volontà divina perché loro sono più bravi di noi anche se non ne hanno merito perché tutte quante le cose create stanno esattamente facendo quelle per cui Dio le ha create e tutti quanti i disordini che riperberano anche nella natura come si legge nel Nuovo Testamento sono tutti quanti figli del nostro peccato allora Gesù conclude questo paragrafo dice attenzione così succede per chi non è del tutto abbandonato in braccio alla mia volontà cioè agisce a una vita cristiana stentata molto sforzata molto affaticata e molto molto imperfetta è così questo lo constatiamo continuamente non è una vita divina è una povera e piccola vita umana cioè quante cose piccine noi vediamo in continuazione essere partorite dalle piccole volontà degli uomini è già un miracolo quando quando sono cose piccine perché spesso e volentieri non sono cose semplicemente piccine sono cose peccaminose ecco quindi questo è questo secondo punto la forza sovrumana perduta quindi quando uno si sente debole quando uno si sente schiacciato dalle difficoltà dai problemi da momenti di crisi da momenti di sconforto tutto quello che noi vogliamo devi immediatamente pensare io mi sono sensibilmente allontanato dalla divina volontà punto questo nostro allontanamento noi poi dobbiamo fare attenzione perché noi stiamo sempre andando a cercare questo vi parlo anche un pochettino da sacerdote cioè la chiesa nella sua sapienza quando andiamo a messa ci fa recitare subito il confiteor confesso a Dio onnipotente che ho molto peccato per mia colpa mia colpa mia grandissima colpa battendosi il petto giusto? ma io ci credo a questo oppure no perché quando noi cominciamo a vivere un momento difficile un momento di crisi cominciamo ad andare a fare la ricerca di chi è la colpa quasi certamente di qualcosa che è fuori di me di 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 una situazione che ho vissuto di un problema che ho avuto di un male che mi ha fatto qualche persona cioè d'accordo? questo modo di vivere di procedere è certamente rispettabilissimo nostro signore ci lascia liberi insomma anche di di esprimere di formulare i nostri pensieri ma non è dettato da da sapienze capite? perché c'è un momento nella nostra esistenza questo vi prego insomma di in cui noi dobbiamo metterci davanti a Dio a nudo cioè un momento di crisi nella nostra esistenza può darsi che ti faccia anche scoprire tante brutte sorprese io vi dico a qualche anima da sacerdote l'ho detto tante volte devo dire fermati ma tu ci credi in Dio l'ho detto queste cose non a miscredenti cioè a gente che magari vi ha messa tutti i giorni ma non significa niente che vi ha messa tutti i giorni bisogna vedere come ci vai a messa tutti i giorni perché ci vai a messa tutti i giorni per chi ci vai a messa tutti i giorni sapete quante volte si sorprendono ma questo lo dice negli scritti le opere buone fatte non per amore di Gesù no per fare contento chi ti vuole bene per fare piacere a tua moglie per fare piacere al tuo marito e lasciatevelo dire purtroppo per fare piacere al prete al padre spirituale al confessore succedono queste cose allora se tu fai un'opera questo Gesù lo spiegano negli scritti se tu fai un'opera buona con questi figli quell'opera buona ma soltanto che è come queste che abbiamo viste brutta sforzata fatta per forza ma non produce nessun effetto positivo ma neanche quelli che producono gli atti umani buoni perché un'opera fatta in questo modo non solo che non produce niente ma produce qualcosa di male cioè io ho avuto modo di constatare d'accordo purtroppo faccio qualche esempio allora voi sapete che bisogna sempre distinguere la verità oggettiva e il portatore della verità cioè il portatore della verità io sono un prese è un servo d'accordo è un servo della verità cioè è un amico dello sposo allora se uno ascolta per esempio una catechesi di Don Leonardo deve dire deve pensare ma quello che dice Don Leonardo è vero o no non perché lo dice Don Leonardo è vero cioè io lo riconosco come non lo cioè questo me ne accorgo subito allora se io un giorno smettessi di ascoltare Don Leonardo non mi va di sentire Don Leonardo allora quella cosa che ha detto in quella circostanza continuerei a farla? questa è la domanda fondamentale perché tu quella cosa non la fai perché la dice Don Leonardo perché la dice Don Nicola perché la dice Don Filiberto Don chi ti pare tu quella cosa la devi fare se l'hai maturata dentro il tuo cuore come cosa vera quindi come cosa fuoriuscente dalla verità divina per cui la tromba che l'ha fatta uscire è cosa del tutto indifferente d'accordo? capito? capisci? quindi cioè e me che non c'è vi posso dire no ma non voglio fare nomi che cosa succedeva io sono stato tanti anni in un'altra parrocchia no? io ho sempre cercato di insegnare ai fedeli che in chiesa tanto a fare un esempio si sta conciati in maniera decente no? un minimo insomma e la chiesa non dovrebbe essere ridotta a un luogo di mercato ma questo non è Don Leonardo capito? perché se uno non ci arriva che in chiesa non si sta come in spiaggia cioè non so se avete sentito il telegiornale 20 giorni fa ho sentito a un telegiornale che i tassisti non so se di Roma o di Milano ci sono dati un codice di autoregolamentazione per cui non puoi andare al lavoro a fare il tassista con i bermuda e gli infradili il tassista perché questo abbigliamento non è decoroso per la categoria quindi si va in pantaloni e scarpe chiuse i tassisti capito? cioè ma se un tassista va in pantaloni e con le scarpe chiuse ma in chiesa sarà un po' più importante la chiesa che il taxi allora come capivo io che la gente non aveva interiorizzato il valore perché quando io me ne andavo per 15 giorni d'estate per esempio che stavo fuori qualcuno veniva a dire ah te ne sei andato tu e in chiesa stanno tutti nudi è la cosa più brutta che possa succedere capito? la cosa più brutta io mi sono fatto che dico non gli ho insegnato niente non sono stato buono di trasmettere un valore capito? perché questi non devono fare una cosa perché ci sto io perché poi li sgrido e che te ne importa io sono essere umano che ti importa che ti sgrido perché poi perché devono piacere a me a me e che ci fai con me e chi so io sono un micro padre eterno sono un po' romoso che ti mi piace a me capito? allora noi queste cose dobbiamo chiedercele capito? dobbiamo assolutamente chiedercele perché se non ci chiediamo queste cose la nostra cioè dopo le trovi ah ma sto in crisi ma sto qua ma sto là e colpa di tizio e colpa di tizio e colpa di tizio e dico fermi fermi tu che hai fatto fino ad oggi? che hai fatto? come sei campato? come dire al rimorchio hai preso bene in considerazione cioè ho detto tante volte il mondo della divina volontà è un mondo così bello anche perché è un mondo sommamente responsabilizzante cioè io l'ho detto tante volte ma questa cosa cioè questa santa provocazione provocazione proprio dal significato etimologico latino provocare io ti chiamo in causa esigo una risposta cioè Gesù vuole instaurare un dialogo a tu per tu tram te e lui capito? tu le cose le devi fare per me dice Gesù non per tizio caio sempronio non per apparire bello agli occhi di tizio caio sempronio con piacere tizio caio sempronio non si fanno le cose per questo motivo dopo a un certo punto quando andrei io questo qua l'ho constatato insomma no persone che magari l'ho seguito ma un certo punto si sono allontanate ho saputo o cioè delle cose allucinanti allucinanti ho capito meno male che si sono allontanati d'accordo perché il rapporto che avevano con me non è certamente come dire teologale d'accordo un prete come dice San Giovanni Battista è un amico dello sposo quindi uno dice guarda che lo sposo ha questi modi ha queste caratteristiche ha queste cose ma tu devi unirti con lo sposo capito e devi piacere a lui e devi interiorizzare le cose davanti a lui guardate che gli uomini ho detto il Papa recentemente ha fatto due o tre catechesi del mercoledì sull'idolatria e il Papa che è un gesuita d'accordo quindi i gesuiti sanno molto bene alcune problematiche legate proprio alla alla profondità spirituale dell'uomo andatevi a sentire io ho avuto modo di di citarle in più di qualche in più di qualche discorso questo è un punto fondamentale cioè una persona che vive in una divina volontà in crisi non ci entra mai non ci puoi entrare in crisi perché tu lo senti il riverbero la bellezza di questo mondo la senti questa leggiadria diciamo così questa speditezza nel fare il bene questa calma costante questa gioia d'accordo in questa serenità non fa niente che ci stanno problemi difficoltà situazioni di sofferenza persecuzioni chiacchiere tutto quello che vuoi ma tu lo avverti questa cosa la vivi allora se tu questa cosa ancora non la vivi ma sei sicuro che hai fatto davvero qualcuno che ha un'opzione fondamentale una scelta precisa d'accordo profonda ti sei ritrovato in crisi va bene perché come ho fatto arrivare adesso che cosa è successo magari fatti aiutare se non se non ci arrivi da solo o da sola una cosa evitiamo di farla non andiamo a cercare le responsabilità nei nostri momenti bui fuori di noi questo è contrario alla sapienza Gesù nel Vangelo dice non sono le cose che entrano da fuori a dentro l'uomo a contaminarle è quello che esce dall'uomo che lo contamina d'accordo vuol dire che dice dal cuore escono tutte quante le intenzioni balorde quindi devi entrare dentro il tuo cuore se vuoi andare a vedere i problemi che ci possono essere stati va bene ultimo capitoletto di questa sera volume 20 12 ottobre 1926 non sai tu che Adamo fino a tanto che si mantenne il figlio primogenito della mia volontà e per conseguenza teneva il primato su tutto io lo visitavo spesso la mia volontà regnante in lui gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me come figlio che forma la consolazione di suo padre sicché io parlavo con lui come figlio e lui con me come a suo padre come si sottrasse dalla mia volontà per dette il primato la prima genitura ed insieme tutti i miei beni né si sentiva la forza di sostenere la mia presenza né io mi sentivo tirato da una forza e volontà divina ad andare da lui bellissime queste cose se le commentiamo perciò tutti i suoi vincoli con me restarono spezzati per diritto nulla più gli toccava né più mi vede svelato ma tra lampi ed eclissato nella mia luce in quella luce della mia volontà che lui aveva respinto ora non sai tu che il primato che perdette Adamo come figlio primogenito della mia volontà è passato a te e io devo racchiudere in te tutti i beni che dovevo racchiudere in lui se non fosse sottratto la mia volontà va bene qui poi continua dicendo che Guisa è l'erede di ciò che Adamo aveva perduto allora brevemente che voglio andare verso la conclusione vediamo alcuni aspetti di quest'ultimo anche qui apparentemente facile e breve passaggio allora numero uno essere nella divina volontà vuol dire libro della Genesi Gesù passeggiava scusate Dio passeggiava con Adamo nel giardino dell'Eden passeggiavano insieme quindi c'era una profonda familiarità amicizia amore se la mia volontà regnante in lui gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me cioè Adamo era capace di restare col padre eterno cioè non è una cosa tanto semplice stare col padre eterno cioè avere dei modi adatti alla presenza del padre eterno e quindi vivere questa relazione certamente col padre eterno ma da figlio intima un omelia che ho fatto nei giorni scorsi che andrà prossimamente online si chiamerà riverenza e confidenza una cosa del genere cioè che sono il doppio binario che deve segnare un pochettino calibrare determinare il nostro corretto rapporto con Dio come si sottrasse sicché io parlavo con lui come a figlio e lui con me come a suo padre come si sottrasse dalla mia volontà perdette il primato la prima genitura e tutti i miei beni e non sentiva più la forza di sostenere la mia presenza né io mi sentivo una forza divina di andare da lui allora cosa è successo dal peccato originale? Adamo comincia ad avere paura di Dio allora qui dobbiamo fare adesso una piccola introspezione conclusiva perché Gesù dice la mia volontà gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me i modi necessari allora noi come stiamo alla divina presenza? punto interrogativo sia a livello interiore che a livello esteriore possiamo dire che i nostri modi sono non dico degni di Dio insomma perché ma almeno un minimo adeguati al senso della divina presenza sì o no? ripeto esteriori e interiori interiori anche qui più inadeguati o grossolani sono meno la mia anima è unita alla divina volontà sicuro come dice Gesù la mia volontà fino a quando ha regnato in lui gli dava lui gli somministrava i modi necessari per trattenersi con me allora qui bisogna che ciascuno di noi pensi come stai tu davanti a Dio ma come preghi tu? questo dobbiamo chiedercelo intanto dobbiamo fare come prego io? come sto davanti a Gesù eucaristia? che faccio quando sto lì davanti? ci sto numero uno quando mi sono fatto la comunione che cosa faccio? che faccio? come mi sento? come vivo quel 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 momento? cioè mettiamoci di parola facciamo pinta io sono Gesù e mi immagino come Gesù che viene dentro di me che cosa pensa? di come io lo tratto? di come mi comporto davanti a lui? i modi per trattenersi con me? come va? quando sto davanti a Gesù eucaristia che faccio? ci vado mai davanti al tabernacolo a fare l'adorazione qualche posto dove c'è l'adorazione a perpetua dove Gesù è esposto e che faccio quando sto lì? che faccio? ognuno di noi deve dare una risposta a questa a questa a questa domanda perché mi pesa per esempio stare con Gesù certo che delle volte uno si sente un pochino aria si sente un pochino stanco una giornata però non può essere che è sempre così cioè un'anima divina aspira non vede l'ora di andare davanti al tabernacolo questo una volta anche i santi insomma vi ricordo sempre raccontare ai ministranti l'apesodo di San Domenico Savio che quando trovava la chiesa chiusa metteva in ginocchio davanti alla porta e gli amichetti suoi che passavano avanti dicono ma che stai a fare? la chiesa è chiusa che te stai in ginocchio io sto donando a Gesù ma che te doni Gesù ma la chiesa è chiusa e tu rispondi alla candidata che significa che la chiesa è chiusa cioè Gesù sta a 20 metri anziché a un metro ci stanno due porticine anziché una sola c'è quella del tabernacolo oppure la porta della chiesa è chiusa e che problema c'è? qual è il problema? questo dice San Domenico sa d'accordo perché quando c'è sta in amore c'è tutto si dice anche nel nostro parlare che me ne importa a me allora come sono i nostri modi? punto interrogativo con Gesù perché mano a mano che ci si addentra nella divina volontà io questo qui lo vedo io questo scusate l'ho vissuto la conoscenza del mondo della divina volontà per esempio ha ridato un grandissimo impulso una grande fioritura e di dar lo vedo anche nelle anime alla vita interiore cioè si riscopre il gusto della preghiera si riscopre anche una certa profondità è una preghiera che magari è andata un pochino perduta o sperduta d'accordo? cioè non perché ripeto non è un fatto cioè se ne può parlare perché non è un fatto che dipende se sei un grande asceta se sei un grande uomo di preghiera è una cosa che tu la ricevi d'accordo? mano a mano che che la divina volontà piano piano comincia a formare il suo regno in te che è un processo graduale quello della formazione però tu cominci a percepire questi effetti d'accordo? è chiaro che cioè non è che 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 subito alloggio al domani Dio comincia a passeggiare con te nel giardino e ti parla faccia a faccia come faceva con Mosè o come faceva con 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 la dama prima del peccato originale ma però si avverte qualcosa vedi cioè c'è un cambio c'è una differenza a me per esempio ma fa tanta tristezza tanta tanta tristezza vedere insomma in parrocchia anche dopo la comunione facciamo sempre una piccola pausa no? però dopo la benedizione generalmente mi intrattengo a fare qualche preghiera con la comunità qualche ave maria la la salve regina la preghiera il padrone che è San Giuseppe la preghiera San Giuseppe la chiera a San Miguel Arcangio ma saranno 3-4 minuti di preghiera no? poi nei giorni festivi addirittura dopo il canto finale così nessuno si sente obbligato è una tristezza vedere che a volte insomma rimangono una minoranza delle persone magari gente che si è fatta la comunione tu la vedi che prende parte cioè non è che uno si tratta di giudicare cioè il giudizio non esiste nella vita di una volta non c'è il giudizio d'accordo? non c'è bravo bello cattivo tutto quello cioè non ci stanno queste cose qui però se una persona si è fatta la comunione 3-4 minuti dopo già sembra che c'ha posso dire espressioni che si dicono che dicevano a Roma come mi ricordavo sembra che c'ha che sta seduto su una graticola insomma che se deve sbrigare andarsene avrà un'anima del genere anche se non sa quello che fa sicuramente interiorizzato dei modi divini per stare con Gesù qualche dubbio qualche dubbio capito cioè tu hai appena fatto la comunione e stai aspettando padre, figlio spirito santo omen scappi subito cioè ripeto non si tratta di giudizi si tratta semplicemente di proprio compassione in senso etimologico del termine cioè io soffro con te mi dispiace d'accordo che ancora non sei non ti rendi probabilmente conto di quello di quello che fai no? però ed è anche una comunione fatta cioè una comunione non ben fatta ho detto cioè ma che quali effetti produce certo c'è sempre il contatto con Gesù sacramentato questo per carità d'accordo ma con me cioè i vostri parroci avranno fatto un po' di prediche adesso che so tre settimane che veramente nell'anno B al mese d'agosto questo discorso sul pane vivo disceso dal cielo che tre domenica la domenica prossima sta pure la quarta finale c'è stata la quarta quando scappano tutti e Pietro dice signore da chi andremo no? cioè allora io dico ma tutte queste comunioni ma tutti stisani ma se Gesù dice chi mangia di me vivrà per me ho mangiato domenica scorsa chi mangia di me vivrà per me dove sono tutti questi uomini e donne che vivono per Gesù dove stanno e quanta gente per oggi fa la comunione tanta gente fa la comunione molto più che un tempo allora che significa questo che in passato durante le attività catechetiche dei demigri nel 68 siamo parlati tantissime volte dico se ste comunioni non tirano fuori i santi e se la comunione contiene il santo dei santi perché contiene Gesù ma che sarà successo? che forse Gesù non è capace di santificare di fare la comunione con la sua presenza? direi di no e allora che è successo? è successo a chi si fa la comunione non la fa? bene non solo perché non sta magari in grazia di Dio e quello è il top la comunione sacrilica ecco ma anche è una comunione tiepida è una comunione superficiale è una comunione grossolana ma che questi sono i modi che si devono avere con Gesù Cristo? capito? ah vabbè ma tanto Gesù non ci fa caso lui è buono insomma vedete cioè differenza e confidenza cioè i modi divini di trattare no? la mia divina volontà regnante gli somministrava tutti i modi necessari per trattenersi con me cioè stare con Dio è stare con Dio insomma è oh capite? non sto dicendo queste cose per fare polemiche quindi per fare qua per biasimarmi per lamentare no? però dai frutti si riconosce sempre l'albero dimmi quello che fai e ti dirò chi sei ora noi dobbiamo noi dobbiamo sempre essere sinceri onesti con noi stessi non dobbiamo avere paura di andare anche a vedere nel nostro cuore delle cose che lei diceva signora mia non dobbiamo oh sapete che il Papa ieri ha scritto una una bellissima lettera al popolo di Dio andatela a leggere non ne voglio neanche parlare a proposito purtroppo degli scandali pazzeschi che continuano a succedere insomma in giro ha detto queste parole chiediamo al Signore la grazia della vergogna tante volte lo dice la vergogna è una grazia cioè se tu il Signore ti concede di poter entrare dentro di te bene vedere tante cose vedere peccati che hai commesso anche errori che hai fatto molti dicono ma come ho fatto ad essere così stupido d'accordo se perdoni il termine e dici ma Signore mi metterei solo sottoterra ma magari se succede una cosa del genere va alla prima chiesa mariana pia tutte le candele mettici 50 euro accenditi tutte le candele possibili di questo mondo perché sarebbe una grazia immensa una cosa del genere immensissima capite cioè la nostra vita interiore non decolla fino a quando noi non siamo capaci di entrare profondamente nel nostro cuore accompagnati dalla luce della divina volontà e dire fermo che cosa come sono campato fino adesso che è successo e come voglio campare da oggi in poi cioè capite la vita nella divina volontà richiede una risoluzione perentoria ferma e non velleitalia tutti i suoi vincoli con me chiudiamo restarono spezzati né più mi vide svelato orribile questa cosa qui cioè noi conosciamo poco di Dio di come lui è perché perché c'è lo spettro lo schermo della nostra volontà purtroppo è ecclissato nella mia luce quella luce della mia volontà che lui aveva rispito allora raccomandiamoci alla Madonna ecco perché ci aiuti a interiorizzare bene queste cose e vedendo ciò che il nostro padre Adamo aveva e ciò che ha perduto possiamo essere maggiormente spronati invogliati ecco a entrare bene dentro il nostro cuore e fare o rinnovare la nostra ferma risoluzione di vivere nel divinvolere che è l'unica forma di vita che ci consente di beneficiare fin da qui di ogni bene e di sbandire usiamo su termine tecnico della nostra vita ogni male appuntamento alla prossima puntata amici carissimi la mia benedizione ave ave maria di vivere di vivere un'ina